Io sono sempre orgoglioso quando si stipulano queste convenzioni comuni e decenni. Ecco, mi piace che adesso i politici, i comuni politici, vogliono integrare anche le persone con la nostra patologia, ecco, cerco i comuni politici, perché hanno capito che i cerco e i movimenti sono anche loro capaci di integrarsi nel tessuto italiano, nazionale, dappertutto. Perché abbiamo ragazze, e adesso abbiamo un gruppo di ragazze qui di contattori, che sono ragazze lavorate, non sono ragazzi, ragazze che stanno già lavorando, e quindi hanno preso ancora anche questo tipo di progetto, perché anche ora voglio fare questa esperienza, perché è un progetto a un maestro per l'anno, non avevo nessuna ricondizione di questi clienti, adesso non tocca, ma è veramente una cosa molto forte, e quindi penso che anche i ragazzi che vogliono fare queste esperienze, grazie a voi usciranno a fare qualche cosa di bello. a 90-20-6-6-6-0-30-6-icc. a 90-60-6-6-0-40-7-6--0-3-9-0-9%-6-0-6-0. Grazie. Grazie. Grazie.